Sarà una svolta di non poco conto per l'Italia, quella annunciata con l'Assemblea CEI al Via Oggi in Vaticano, settantesima della serie ed ultima col Cardinal Bagnasco Presidente, nominato nel 2007 e confermato nel 2012 per un secondo quinquennio da Benedetto XVI. La novità in 65 anni di storia dell'organismo che riunisce i Vescovi italiani è al punto 3 dell'ordine del giorno in agenda domani, elezione di una terna di Vescovi da proporre al Papa perché egli nomini poi il nuovo Presidente CEI, procedura singolare perché quasi tutte le altre conferenze episcopali eleggono il Presidente da sole ma nuova comunque rispetto al passato quando il Papa nominava direttamente il Presidente dell'Episcopato italiano. Nel 2014 quindi, dietro sollecitazione di Francesco, fu un'altra Assemblea CEI a modificare l'articolo 26 del proprio Statuto, optando per l'elezione non del Presidente ma di una terna di potenziali nomi, soluzione intermedia a questa tra vecchio sistema che Francesco voleva superare e sistema delle altre conferenze episcopali che però avrebbe sminuito, si disse, il peculiare vincolo tra Chiesa italiana e Pontefice Vescovo di Roma. I tre nomi nel dettaglio dovranno tutti essere Vescovi diocesani e votati a maggioranza assoluta. Francesco saprà verosimilmente già domani chi saranno per poi provvedere alla nomina non per forza tra i tre eletti se volesse e quando lui stesso deciderà. Tutto il resto è materia di dibattito e pronostici più o meno attendibili. L'Assemblea CEI di oggi eleggerà come sempre invece ha fatto anche un Vicepresidente per il Sud al posto di Spinillo di Aversa giunto a fine mandato. Quanto a Bagnasco, Arcivescovo di Genova tuttora in carica, manterrà comunque l'incarico di Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee.